Salve a tutti, oggi parliamo della lettera scarlatta di Nathaniel Othon, un classico della letteratura anglo-americana di tutti i tempi. Mi è tornato in mente questo libro quando si è svolto il congresso mondiale delle famiglie a Verona a marzo 2019, un congresso che rivendica la correttezza della famiglia tradizionale, composta da padre, madre e figli e i cui partecipanti sono sostanzialmente contrari al divorzio, all'aborto e hanno anche posizioni critiche nei confronti dell'omosessualità. Mi è tornato in mente questo congresso perché la lettera scarlatta si svolge in un periodo in cui l'America era fortemente puritana, si svolge nel XVII secolo, anche se il romanzo è stato pubblicato da Othon nel 1850 e narra la storia di una giovane donna che viene perseguitata dalla propria comunità per aver fatto un figlio senza che si conosca il padre. Esther Pryn, questo è il nome della protagonista, è costretta a cucirsi sul petto la lettera scarlatta, la A come adultera che è simbolo del suo grande peccato. Noi oggi abbiamo sulle magliette vari loghi o questo per esempio sono simbolo di divertimento, qualcosa che ci piace indossare, invece per lei la lettera scarlatta era la sua condanna definitiva nei confronti del mondo. Esther dovrà soffrire molto, dovrà passare molte pene, ma alla fine l'autore ci spiegherà che il peccato non era solo di Esther e che il peccato è spesso laddove non si vede e laddove la nostra ipocrisia ci impedisce di vedere. Il romanzo ebbe grande successo in America innanzitutto perché fino alla metà del 1800 gli americani non avevano una propria letteratura, attingevano a quella inglese ma naturalmente avevano un'altra storia seppur molto giovani e quindi non si rispecchiavano in quei romanzi. Questo era un romanzo autenticamente americano, inoltre aveva anche una storia un po' torbida, tinte fosche e questo è sempre in grado di attrarre il lettore. Comunque Hawthorne ha tenuto a ricordare che aveva scritto questo romanzo proprio contro i tabù, contro i pregiudizi, la mentalità gretta di quell'epoca. Lui si definiva un Whig, un liberale e voleva appunto sottolineare come ci fosse molta epocrisia e ci fosse un eccessivo perbenismo in questo tipo di atteggiamento e di pensieri. Il congresso mondiale delle famiglie che noi abbiamo avuto a Verona è stato fondato nel 1995 da Alan Carlson, un americano proprio come Hawthorne, un americano che era funzionario nell'amministrazione Reagan, quindi repubblicano. Si era recato in visita in Russia e con alcuni sociologi russi aveva realizzato che la famiglia era in grave pericolo, c'era un forte declino e questo era dovuto alla liberazione sessuale, era dovuto al femminismo, non si facevano più figli, non si fanno più figli, perciò da qui l'idea di istituire un congresso delle famiglie per difendere questo concetto tradizionale di famiglia. Dall'America puritana della lettera scarlatta al congresso mondiale delle famiglie c'è un filo rosso.